Sono contento di stare qui perché per me è una grande soddisfazione, ma mi sorprende e mi gratifica quello che lei ha detto, sembra proprio che praticamente ha letto bene, cioè sono sette anni che stiamo facendo per il sociale cose molto importanti effettivamente e sono onorato quindi di questo premio. Quindi praticamente l'Avis, sì, l'ho presa le retini sette anni fa, oggi possiamo dire che sta a un certo livello effettivamente e ringraziamo molto gli imprenditori. E lo sostengono anche molto. Voglio parlare qualcuno, perché ho visto il figlio del Cavaliere Casinelli che è un grandissimo amico dell'Avis, come lo è la signora Molella Votovision, come lo è la Gesslan, insomma tantissime aziende si sono messe in amicizia con noi e ci fanno andare avanti. Quindi grazie a voi. Poi Mario, la cosa bella è che io mi credo di incontrarti a ritrovo di eventi, tu lavori, perché questo chiamiamo, è un lavoro, però più che lavoro è una passione, è una voglia di andare sempre più su, di salire sempre più. Questo pure è un leggere tra le righe che fa onore anche alla padrona di casa. Parliamo, parliamo. Perché veramente, in pratica sì, sono uscito dal circuito di lavoro dopo i 40 anni di servizio nell'industria e la mia professionalità l'ho voluta mettere a disposizione del sociale. Quindi adesso la mia professionalità è proprio destinata tutta lì, quindi... Noi parliamo solo di questo. Di questo, sì, sì, sì. E questa è una cosa bella però. E posso spendere una parola in più se mi è concesso, ma penso che è utile. Perché come l'Avis nasce con la vocazione di fare la donazione per sangue, noi per andare avanti, che si è inventato il Presidente, si è inventato altre piccole attività. Perché siccome a Frosinoni, come pure a Latina, come pure nelle altre, mancano ormai tante strutture dedicate proprio al sociale, tipo la AIDO, non c'è a Frosinoni. La ADMO, donazione mitollossio, non c'è a Frosinoni. Noi ci siamo inventati un protocollo d'intesa con la ASL, quindi siamo un punto di riferimento anche per quelle cose. Certo. E quindi già questo è un valore aggiunto. Come pure l'ultima cosa, facciamo anche i progetti risocializzanti. E noi ci vengono quattro giovani che stanno in terapia dal Dipartimento di Salute Mentale e anche con il Tribunale abbiamo fatto un protocollo d'intesa, vengono a scontare la pena anche da noi. Il circuito di recupero, chi si prende un verbale deve scontare 15 mila euro di multa oppure va a fare servizio sociale all'Avis. Siamo stati capaci di fare anche questo. Tutte queste informazioni possono trovarle anche all'interno del sito. Sì, 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 assolutamente. www.avis.it Perfetto. Parte tutto da lì. Grazie, grazie a Mario Rossi. Viene premiato dall'arena Geremia. Ecco qui, facciamoci.